Il caseificio Ciane di Gennaro Fabio da anni accoglie i propri clienti con gentilezza e col sorriso e fa esultare il loro palato con i suoi prodotti fatti in casa olive nere, salumi tipici calabresi, latte intero o parzialmente scremato ciliegino condito, mozzarella, bocconcini e sfoglie di mozzarella ripieni ricotta classica, salata e infornata, grana padano, pecorino stagionato, caciocavallo cosa cavaggio, formaggio fresco, condito, secondo sale, caprino e alpistacchio ravioli di ricotta o di ricotta e spinaci e per ricorrenze varie la ricotta viene venduta nella cabagna o preparata su richiesta direttamente a casa del cliente e al ristorante per i matrimoni e non dimentichiamo i gustosissimi dolci cannoli, crostate, rullè, pasta sfoglia con ricotta e gel di mandarino e per San Valentino mozzarella ripiene con i barci perugina tutti i prodotti sono preparati con il latte della nostra fattoria Ciane e della centrale ragusana ci trovi in via Diocle 13, traversa Viale Cadorna a Siracusa telefono 0931 21 294 338 191 5485 caseificio Ciane anni di storia che fanno la differenza che fanno la differenza